il 21 giugno festeggeremo ancora una volta la festa della musica per la sua ventisesima edizione sarà una festa straordinaria con artisti che saranno in tutte le città italiane in tutti i paesi del nostro lungo e ricco paese sarà la festa della musica con tanti generi diversi con mille bande soprattutto una musica senza confini e senza barriere importantissimo soprattutto in questo momento vi aspettiamo numerosissimi paolo freso